Ciao a tutti, sono Rai Mafezzogli dai Rai4Swan e immagino che molti di voi avranno capito il motivo per cui faccio questo video. Sto parlando ovviamente dell'Ice Packet Challenge, l'iniziativa benefica volta a raccogliere dei fondi per la SLA, una malattia terribile che al giorno d'oggi non ha cura, ma che grazie al lavoro di migliaia di uomini e donne che si occupano della ricerca, un giorno riuscirà ad avere una cura e una soluzione e per questo hanno bisogno di tutti noi che con una nostra generosa donazione potremo aiutarli a raggiungere questo scopo in modo da ottenere un mondo migliore per tutti. Ora, prima di andare avanti, ci tengo a mostrare una cosa. Questa è la ricevuta della mia donazione che ho fatto questa mattina ed esorto tutti quanti a fare la stessa cosa sui siti www.aisla.it oppure ailsa.org. Ora veniamo alla parte divertente. Ringrazio Ricci Sambora, chitarrista dei Bon Jovi e Raffaele Ludovici, presidente di Triestis Rock per la nomination e nomino a mia volta il mio braccio destro, Massimo Stolfa, il musicista locale frontman dei Five Different Ones, Mattia Fumelo, detto il fetish e la mia stalker numero uno, Flavia Sanna, che è esorto a eseguire l'icepacket challenge in maglietta bianca oppure direttamente senza nulla per la gioia di tutti. Bene, è il momento che stavate aspettando, io un po' meno. Pronti? Uno, due, tre! Fredda! Grazie per l'attenzione e di nuovo vi raccomando di fare una donazione sui siti www.aisla.it oppure www.aisla.org. Grazie a tutti!